Buongiorno cari amiche, ben ritrovati in diretta su QVC. Io sono Silvia Cavalca e vi do il benvenuto a questa terza giornata conclusiva del nostro weekend dedicato non soltanto alla moda ma al Natale, con i master dell'inverno, con la possibilità di farci fare dei regali esclusivi, reso esteso al 15 gennaio e tendenze nella moda e ovviamente anche negli accessori gioielli che tanto fanno la differenza nel nostro look. In quest'ora parliamo di nomination, avremo sei novità del giorno di cui quattro assolute, per cui grazie ad Alessandro Gini. Intanto così vi do una notizia bomba, l'anello è tornato disponibile in un ulteriore preordine, quello prezzo Natale abbinato al Today Special Value, quindi state lì e seguiteci. Anticipazioni di quest'ora, da che cosa iniziamo? A stupirvi da questa collana. Io ho fatto un doppio indosso che richiama appunto l'agata viola e questo verde smeraldo meraviglioso. 627 e 749 è il codice, c'è anche il giallo che è la stessa punta di giallo.